È dalle piazze che ricomincia la vita, dalle piazze ricomincia la salute, nelle piazze si difende la salute, si difende tutti insieme, con dei professionisti validi, con delle tecnologie importanti, con un'organizzazione importante, ma anche e soprattutto con l'alleanza delle istituzioni, delle associazioni di volontariato e la consapevolezza dei cittadini. Il 25 settembre la sanità esce dall'ospedale ed incontra i cittadini in piazza grande. Sarà infatti una grande festa, ma anche e soprattutto un momento di formazione per insegnare come aiutare i soccorsi e salvare così le vite. Io sono felice e contento di fare dopo dieci anni questa bella manifestazione, che non è che deve essere una manifestazione di chiusura, deve essere una manifestazione di inizio, di inizio una nuova epoca, di una nuova legge che è arrivata, che permette a tutti di defibrillare, anche se non hanno fatto un corso, guidate dalla centrale, che permette a tutti di sapere dove è un defibrillatore. Cioè si sta andando avanti verso un modello dell'area vasta sud-est che è fondamentale. In tutta la provincia di Arezzo attualmente ci sono 1035 defibrillatori ed il personale formato è in continuamento. Non c'è infatti comune che non abbia un apparato e non c'è scuola senza defibrillatore. Un defibrillatore salva la vita se viene usato, ma se c'è una catena, se c'è chi già massaggia, se c'è una centrale che funziona, se c'è un soccorso sanitario che funziona. Tutto questo vuol dire lavorare in rete e creare questa rete è la cosa più bella del mondo perché comunque salve vite veramente. Tante le associazioni, gli enti e le aziende private che hanno aderito a questa iniziativa. Dalla prossima settimana i commercianti che hanno partecipato ai corsi di formazione potranno esporre nel proprio locale le vetrofanie che attestano che l'attività è protetta. L'ordine professionale degli infermieri insieme a sinergia con gli altri ordini professionali, le associazioni, ma soprattutto il volontariato, ha messo in atto una formazione adeguata per i commercianti e soprattutto residenti della zona in modo da poter cardioproteggere la città e soprattutto la piazza principale. Quindi verrà proprio consegnata il 25 settembre in piazza un bollino, un bollino da porre nelle vetrine principali della città dove indicherà un locale protetto soprattutto per la disostruzione di aerea. In piazza sarà infine presente anche il camper vaccinale dell'Asla con l'accesso libero alle persone tra i 12 e i 60 anni.